Eccoci qua, buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di questo bellissimo fulvo con pedigree enci, veramente molto bello, molto compatto, siamo veramente molto orgogliosi di lui. Di cosa voglio parlare oggi? Voglio parlare di un argomento di cui ho parlato più di una volta, però lo ritengo veramente molto importante, perché vedo tante volte persone che fanno ancora errori veramente banali, assolutamente da evitare. Allora, come insegnare al nostro cane ad accettare il guinzaglio? Vi ricordo che noi abbiamo furia, i cani non hanno mai furia, quindi mettiamogli il collarino, mettiamogli, attacchiamogli il guinzaglino e lasciamolo libero per casa. Il cane avrà tutto il tempo di abituarsi a questo corpo estraneo, camminandolo pesterà, ci prenderà, diciamo, confidenza, pian pianino, diciamo, si abituerà, come dicevo, al guinzaglio, al collare, diciamo, a questo nuovo strumento. Quando noi poi vedremo che il cane girerà per casa sgommando col guinzaglio dietro, allora sarà pronto per essere preso in mano il guinzaglio e portarlo fuori. Cosa da non fare mai quando il cane lo portiamo fuori e si pianta è tirarlo, perché noi gli facciamo un'associazione emotiva negativa legata allo strumento del guinzaglio. Gli mettiamo uno stress, se noi lo tiriamo è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Meglio lasciar cascare in terra il guinzaglio e chiamare il cane. Quindi non tiriamo mai il nostro cucciolo quando lo mettiamo al guinzaglio in un momento in cui si può piantare. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.